Più compatti di così non potevamo stare, eravamo tipo pressati, come un compensato di carne umana. E loro uguali, con quei 30 metri di terra di nessuno in mezzo, e intanto c'è sta il sangue che puzza, la tachicardia, il cuore che fa boh 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 boh! Stoppia un bombone, ma non è de secco, è del secco scuro, tipo! Come i copi cattivi dei cavalieri del Zodio Diego, è il secco nazista! E l'altro, infissa che i bomboni, io pensavo che era una leggenda metropolitana, mio cugino però dice che una volta ci stavamo stati insieme e ha capito che non era secco perché diceva cose completamente diverse. Oh, non mi ha più affullato! Vabbè, comunque, si stia vero e sta già a preparare un altro bombone, però... Questo invece è secco nostro, lo riconosco dal buato di casa!